Seduta al mattino per il Pescara che domani proseguirà la preparazione verso l'ultima gara casalinga stagionale con l'amichevole del Barbati di Pescina contro l'unico Sano Fondi, compagine che ha appena concluso la sua stagione di Lega Pro con l'eliminazione del primo turno di play-off ad opera della Virtus Franca Villa. Per il match di lunedì all'Adriatico-Cornacchia contro il Palermo, Zeman sarà ancora privo dello squalificato Ben Ali, mentre sono da valutare le condizioni di Bovo alle prese con un affaticamento muscolare, così come sono anche da valutare le possibilità di impiegare dal primo minuto Gilardino che proprio col Palermo un anno fa centrava una salvezza a un certo punto insperata. Sarà la partita tra le due retrocesse stagionali e il Delfino non ha più neanche il platonico obiettivo di evitare l'ultimo posto, oramai matematico. Al di là dell'impiego da titolare o dalla panchina di Gilardino sarà interessante capire se potrà far parte o no del futuro targato Zeman nel prossimo campionato di Serie B. Il bomber potrebbe essere guidato dalla voglia di dimostrare a Pescara di non essere un giocatore finito, riscattandosi dalle problematiche di natura fisica di questa stagione. Anche il Boemo, parlando in generale, non ne fa una questione di età, ma di propensione al lavoro duro, al sacrificio, alla volontà di seguirlo nelle sue metodologie di lavoro. Soprattutto Zeman dovrà chiarire se il Gila fa il caso del suo sistema di gioco o no. Intanto il Pescara continua a mettere in evidenza il gioiellino Coulibaly, che interessa molto la Juve. Prova ne sia quanto accaduto nelle ultime ore. Questa mattina, infatti, il presidente Sebastiani e il club manager Pepe sono stati a Roma, nel quartiere generale della Juventus, che attende la finale di Coppa Italia con la Lazio, e lì hanno incontrato il DS bianconero Fabio Paratici. Pur restando in rival adriatico, il talento senegalese potrebbe essere utilizzato per ottenere dal club bianconero alcuni giovani di interesse, come Riccardo Orsolini, fresco di salvezza con Lascoli. Andranno via i veterani Coda e Stendardo, mentre per Campagnaro salta fuori l'ipotesi di un contratto a gettone per cautelarsi degli infortuni che attanaglia il difensore argentino, che poi, quando è in campo, è una sicurezza. Zampano e Biraghi andranno via solo in caso di importanti offerte. Intanto fa già sognare Leonardo Mancuso, che con una doppietta ha trascinato la San Benedettese al passaggio del primo turno di play-off in Lega Pro, ed ora se la vedrà con il Lecce agli ottavi di finale.